I carabinieri hanno sgominato un'associazione a delinquere finalizzata al furto di macchinari per l'escavazione che venivano rubati dai cantieri del nord Italia ed esportati in Albania, dove venivano utilizzati in importanti cantieri per la costruzione di strade. L'indagine Digger, coordinata dal PM Matteo Centini, nasce dal ritrovamento di un caterpillar abbandonato a Villanova, nascosto nei pressi di una cascina. Il caso è stato segnalato da un cittadino. I militari hanno recuperato il macchinario, risultato rubato, in un cantiere del Parmense. L'escavatore però aveva un numero di telaio falso e così è partita l'indagine, durata da luglio a dicembre del 2018. Da qui abbiamo ricostruito attraverso varie attività tecniche chi era andato a rubare al cantiere e chi poi aveva portato il mezzo sul posto e quindi è partita questa attività che ha potuto disarticolare questo pericolosissimo sorrizio criminale. Nove i soggetti indagati, cinque sono finiti in carcere, uno è stato scarcerato proprio oggi, due sono ai domiciliari. Il capo è un 47enne albanese e con la compagna 35enne faceva sopralluoghi nei cantieri per individuare i mezzi da rubare. L'uomo aveva un'impresa in Albania. Il sodalizio si avvaleva di soggetti che eseguivano i furti, altri che cambiavano i numeri di telaio, imprenditori che emettevano fatture false per la compravendita. Tra gli arrestati, quattro sono albanesi, due milanesi, uno emiliano. I reati contestati a vario titolo sono furto, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Sei i furti accertati. Il valore dei macchinari rubati era di circa un milione e mezzo di euro. Due mezzi sono stati recuperati. È centrale la necessità di avere un controllo capillare del territorio da parte delle pattuglie delle stazioni carabinieri perché è grazie a loro attività che abbiamo potuto rinvenire questo mezzo da cui poi sono partite le investigazioni.